All'ultimo assalto l'Angolana riesce ad avere ragione su di uno sul Monaco Riaceo che ha lottato su ogni pallone. Nulla però hanno potuto sulla zampata sottomisura di Pirelli in pieno recupero. Ma veniamo in cronaca. Dopo 30 secondi Pirelli lanciato in area viene a contatto con il suo marcatore. Per la signora Menicucci di Lanciano tutto regolare. Angolana costruisce ma si perde spesso negli ultimi 16 metri. Sul Monaco si difende con ordine e cerca di fare male con le ripartenze. Si arriva così al trentesimo con questa punizione di Vitale alta sulla traversa. Finale di tempo del Sul Monaco che sciupa due clamorose occasioni. Al trentacinquesimo Ricci perde palla Reale per Agatiello che da buona posizione spara fuori. Al trentanovesimo ancora Sul Monaco con Cività Reale che batte forte a rete. D'Andrea un po' incerto non blocca. Palla che ricade di poco oltre la traversa. E questa l'ultima azione che chiude il primo tempo. Il secondo tempo inizia come il primo con l'Angolana che al settimo reclama il penalty con Pirelli trattenuto in area. Tredicesimo crosta alla sinistra. Ponte di Farindolini. Pirelli di testa. Carosa alza sulla traversa. incredibile due minuti dopo ecco cosa riesce a sbagliare Pirelli. Al dicesettesimo il Sul Mona rimane in dieci. Favilla trattiene Pirelli già ammonito. Secondo giallo e gara finita. Aumenta il forcing l'Angolana. Ventiduesimo crosta alla sinistra. Pirelli non arriva alla deviazione. Sul Mona non si vede chiusa Riccio nella speranza di non subire gol. Si arriva così al quarantesimo. Ci prova di domizio dal limite. Palla alta sulla traversa. Sul Mona che alza il fortino difensivo e resiste con l'uomo in meno fino al quarantottesimo. Quando Vitale fa partire un crosta alla sinistra e Pirelli sotto misura trova la deviazione vincente da tre punti. Passano pochi secondi e l'Angolana può esultare. Andiamo a giocarcela sempre alla pari. La squadra del primo tempo ha dimostrato che non siamo inferiori a nessuno. Quello che dispiace è che abbiamo preso il gol non nei tempi di recupero ma fuori tempo massimo. Visto che al quarantacinquesimo ha decretato tre minuti di recupero c'è stato un piccolo infortunio del mio capitano quindi andava recuperato solo trenta secondi in più e invece l'ha fiscato dopo il quarantanovesimo. Questo mi dispiace ma soprattutto non per la classifica ma per la prestazione dei ragazzi calcolando che l'ultimi venticinque siamo rimasti in dieci per l'espulsione di Favilla.